Vieni dietro per il ritorno. 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 Sì, perché quando noi ci facevamo i corsi figuranti della sciacca ovviamente, quando tu andavi a fare il cucciolo e quelli che non erano capace, no no, gli urlavano che si sentiva a qualche momento di distanza, lo facevano a cazzare, c'era anche un corso sciacca. Noi il corso sciacca che abbiamo fatto noi l'abbiamo fatto con Don Pieri, con Clemente Groscio, ci hanno fatto un mazzo.